5.39 del mattino, Fede sta caricando l'auto, direzione Mestre Parco San Giuliano, rigorosamente mutande, pavè classic ride, oggi si va al mare, poi anche il ferry boat, prima volta che prendo il ferry boat con le bici. Vi lasciamo qui le tappe principali del giro, guardate il video, gustatevelo tutto e se vi piace ricordatevi di mettere un like e di iscrivervi al canale, grazie. Oggi abbiamo Mauro che è esperto della zona in cui va da Cicerone oggi. Dove siamo? Siamo tra Mestre e Venezia, laguna. Guarda, ieri io dirlo, perché si è bagnato, perché si è bagnato e ti roma no. Prima pausa barretta con i nostri amici Gigi, Mauro, il videomaker è caduto per cui fino adesso nessun video, nessun video, ti sto provando io. Botte ovunque, ma tutto bene, spero. Abbiamo delle brigue di Aspani nel città. E si va a Chiesolo anche oggi. Primo ristoro. I ragazzi, tutti col telefono. Secondo ristoro. Ci voleva tutto. Tutto tutto. Tutto tutto. Sì. 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 San Marco. Questo giro vale solo per due. Bellissimo. Bellissimo. Grazie a tutti. Finito anche questo evento. Giornata un po' difficile per Infrede, caduto, forato, chi più ne ha più ne metta però adesso. Diciamo che questo giro merita per Infredebot sicuramente perché il resto del percorso è tutto un percorso che abbiamo fatto tante volte. Spettacolare per chi non ne è mai stato. Lungo il stile, il lungo il piave, il dio piccolo che è un gioiello. Però è per i voti che vedi Venezia dal mare, dall'acqua è una cosa buona. Molto bene! E' strameritata! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!